Hammers! Consolato da Sottile! Una battuta ironica, gli Hammerd! No, vabbè. Dai, ti sta considerando Sottile che oggi ha vinto il girone in Serie A. Però gli Hammers non possono ripetere la stessa imprese da Gradators, perché? Super Revolution oggi. Perché intanto gli Gradators ce n'è uno, e basta. Poi devo continuare il discorso. Scusate. Più che altro era una questione mentale. Siamo mantenuti in campo proprio spaisati. Completamente. Quindi, vabbè, non è girata per oggi. Più che altro anche i ragazzi che magari non lo so. Non c'erano completamente. Non c'eravamo. Ora però avete l'ultima partita con i Durex e poi... Che succederà? Chi scusa? I Durex. Sottile. Meglio essere zitti che me. Vabbè, comunque si vedrà. Perché anche i Revolution Masternode avranno partito contro i banalissimi. Vabbè, ormai penso che sulla carta è fatto. Poi vabbè, non ci può mai sapere. Penso che i banalissimi siano salvati. Sai, il 5 maggio insegna, Juventus-Perugia... Non ricordiamo questa nota che tu sapete. Eh vabbè, eh vabbè. Sulla carta loro vinci. Ma avranno motivazione anche. Ho capito. Vuoi salvare qualcuno oggi dei tuoi? Magari qualche parata. Di trigili. Però... Ti sei infortunato oggi? Come va il ginocchio? No, l'ho sentito bloccato totalmente. Infatti abbiamo preso anche un gol per colpa mia, però... Il portiere non me la dà mai. In quel momento ha deciso di darla. Eh vabbè. Vabbè, capo. Ok capitano, ti rifarai sicuramente sabato. Tanto salgono sicuri. Non fa tu che dici che salga. Non puoi salire. No, playoff. Vabbè, ormai playoff. Vabbè, noi puntiamo ai playoff. Senza dobbiamo puntare alla Serie A. Vedremo, vedremo. Questione di testa. A sabato, allora. Ci vediamo. Ciao, ciao, ciao. Grazie, ciao. Torna Muceri. Revolution vincono. Sono prima in classifica. Allora il tuo ritorno è fatto bene alla squadra. Sì, vabbè. Comunque lo piccolo non ha demerità. Ha giocato benissimo in me. Cioè, la squadra l'ha fatto molto bene. Avevo fatto due ruttati toglie due partite. Oggi comunque è una partita troppo complicata. Però... Secondo me comunque è... Più che altro ne è viaggiato bene. Però gli Ammers oggi forse non erano in gran forma. Cioè, è venuto più facile anche per questo. Meglio per voi, no? Sì, meglio molto meglio per noi. Però sono stati un po' fortunati, se non ti hai visto. Zero col subito non me lo aspettano. Un buonissimo attacco. Loro due bestioni all'ora davanti. Bartolone... Adesso c'è la partita che è banalissima. È tutta in discesa. Già festeggiata la Serie A? Eh, in teoria l'abbiamo festeggiata. Di scanto che abbiamo festeggiato inutilmente. Però... Penso che, onestamente, ci dovremmo fare. Non penso che ci faranno i favori banalissimi. Però l'ho capito. Abbiamo rotto banalissimi. Siamo primo, un motivo ci deve essere. Ma per 3-0. Come? Dicono... 3-0 per i banalissimi. Aia, aia, aia. Sto andando... Partitone di Mucera! Fai il 6 e il 6+. No, ha giocato bene. È migliore in campo dei tuoi? Secondo me, anche se sono arrivati pochi tiri. Cioè, io per me è piaciuto bene la difesa. Ma Teresco è giocato molto bene. Ha fatto quelle due parate, 8-7. È davvero bello. Molto bello. Non ho capito. C'è tanto di cappello a lui soprattutto. Va bene Mucera, ti ringrazio. Ci vediamo sabato prossimo per i festeggiamenti della sede. Speriamo. Ok. Ciao, bocca al lupo. Ciao.